si tenta di modificare quello che è stato, quello che non ci piace più si tenta di eliminarlo. È una roba ridicolissima secondo me, anche perché si basa sull'idea che certe cose ci offendono e rischiano di offendere i nostri ragazzi che sono sempre visti come se fossero fragilissimi. Allora ultimamente pare che riscrivano i romanzi di Agatha Christie e allora adesso l'idea è ah ma non dobbiamo offendere chi leggerà, quindi cambiamo queste parole. Peccato che lo usava anche Shakespeare naturalmente, quindi modificheremo anche Shakespeare, anzi certe cose di Shakespeare, il mercante di Venezia dove il protagonista è un ebreo cattivo. Lo storico serio dovrebbe dire ci sono sicuramente ragioni profonde e possiamo imparare moltissimo analizzando quello che sta succedendo, però in realtà la prima tentazione dello storico è di dire semplicemente sono diventati scemi, si sono fatti prendere dalla paura.